E ora, rompete la vigilia d'armi, pugnaci contro i taglioni. Bilancio più che positivo per il tanto atteso appuntamento con la Giostra, l'evento che ogni anno si svolge a Castello del Matese, richiamando nel piccolo comune fiumi di persone che si spostano dall'intera regione. Il fulcro della manifestazione è stato naturalmente il torneo commemorativo dell'assedio dei baroni del 1460, quanto Castello era la rocca alta di Piedimonte, luogo sicuro dove ripararsi per l'ultima resistenza. Quel drammatico evento è rievocato con la contesa dello stendardo cittadino, simbolo del potere da parte dei cavalieri delle tre contrate, cavallo, platano e torre. Tante le famiglie al completo, che hanno preso parte alla sfilata in costume sia come spettatori che come attori, un fiume di persone comodamente sedute, hanno invece avuto modo di degustare i menu che l'organizzazione aveva messo a loro disposizione nelle tre serate. L'AFA di questi giorni è inutile dirlo, ha fatto il resto spingendo tantissimi visitatori a salire fino a Castello del Matese per prendere un po' di fresco e per assistere ad uno spettacolo fra i più belli e ben organizzati della Campania. Da Castello del Matese è tutto. Sì. Grazie a tutti.